ciao da luci oggi breve tutorial che poi non è un vero e proprio tutorial ma soltanto la presentazione di un aggeggino un attrezzino carino che ho comprato l'altro giorno e sul gruppo mi avevate chiesto cosa fosse vi svelo il mistero qua su youtube è il un tricottino possiamo chiamarlo così si dai chiamiamolo così automatico quindi di quelli a manovella vedete all'interno ci sono dei dentini e quindi e uscirà dal dal nostro aggeggino diciamo il cordoncino già fatto il tricottino già fatto in passato avevo fatto vedere quello manuale che è questo e vi avevo fatto vedere anche come si faceva senza neanche questo ma semplicemente con l'uncinetto il nostro cordoncino oggi voglio farvi vedere il funzionamento di questo perché devo dire che mi ha decisamente conquistata in quanto è veramente velocissimo da fare è veramente in pochi minuti avrete un cordoncino veramente molto lungo e io sicuramente lo userò per fare dei cordoncini decorativi quindi ci farò qualcosa però piano piano vedrò che cosa riesco a farci e in che modo senza stoppare il video sarà un video senza pause tanto sarà brevissimo vi faccio vedere questo aggeggio quindi questo attrezzo mi è arrivato in questa confezione ecco qua la faccio vedere e al suo interno c'era questo che è un peso che si apre e si chiude lo spazietto al centro per poter incastrare il filo il peso serve sempre poi c'è un uncinetto in questo caso da 2 2,5 mm e ovviamente il nostro attrezzino a manovella ora vi faccio anche vedere come funziona è veramente semplicissimo allora andiamo a prendere del filato che sia comunque per composizione e per intendo che non deve essere pelosissimo non deve essere con nodini insomma un filato liscio possibilmente di uno spessore che può andare dai due ai tre e mezzo di spessore quindi che si lavori con uncinetto dal due al tre e mezzo anche perché di più ho provato si incastra allora lo infiliamo ecco lo facciamo passare da questo ferma fili qui lo facciamo entrare qui e lo facciamo scendere da questo lato lo facciamo entrare nel buco centrale della nostra macchinetta vediamo se ce la facciamo ecco più che altro per l'inquadratura lo spingiamo dentro fino a quando non esce da sotto se non esce ce lo andiamo a catturare col nostro uncinetto in qualche modo se no andiamo avanti a farlo uscire in questo modo vediamo quando uscirà da sotto andremo a fermarlo con il nostro pesino vedete schiacciate la linguetta fate entrare il vostro filo e quando la rilasciate sarà bloccato vedete il filo all'interno del peso a questo punto ecco teniamo principalmente fino a quando non è bloccato il filo all'interno delle nostre dei nostri dentini teniamo anche il filo tirato per evitare che ci cada perché ovviamente c'è il peso sotto e cosa facciamo allora mettiamo in questo modo il filo vedete io lo faccio partire faccio passare il nostro dentino e poi c'è il nostro filo vedete in questo modo non so se si vede bene giro un pochino la manovella e al prossimo dentino faccio prendere il filo al dentino dopo non faccio prendere il filo quindi farò incastrare il filo su un dentino sì e un dentino no ci sono quattro dentini all'interno quindi quattro uncini quindi questo lo faccio prendere il prossimo no allora ecco qua lo faccio arrivare vicino ma poi con l'uncinetto glielo faccio saltare quindi lo porto oltre da questo momento in poi li posso far prendere tutti e vado avanti a girare vedete cosa succede all'interno mi raccomando il peso deve essere sempre in tensione altrimenti viene fuori un vero portello allora in questo caso vedete il peso non è in tensione adesso farò in modo da farlo essere in tensione perché se no si incastra allora aspettate che giro un attimino da sola non sul tavolo perché se no non rimane in tensione e non esce nulla allora sono andata avanti un pezzettino ma vorrei farvi vedere proprio come gira bene perché insomma se vi faccio una spiegazione se vi do una spiegazione voglio che sia completa quindi adesso man mano che vado avanti spostiamo il peso di modo da ecco vedete possiamo metterlo anche sul cordoncino e adesso vi faccio vedere vado avanti a girare molto velocemente e ovviamente magari tirando un po da sotto perché il peso ovviamente rimane sul tavolo però vedete come gira si prende bene il filato e intanto da sotto esce il nostro cordoncino appunto la parte importante di tutta questa lavorazione è proprio il fatto che come si dice rimanga tirato da sotto quindi adesso vi faccio vedere solo il pesino così vedete quanto cresce velocemente ecco qua io sono andando avanti a girare ecco a questa velocità diciamo così voi vedete quanto velocemente si può andare ora di nuovo sposto il mio peso in questo modo e ricomincio adesso vi faccio vedere di nuovo vedete cresce ad una velocità pazzesca ed è bellissimo il nostro cordoncino quindi arrivati di nuovo al tavolo ovviamente io per ragioni di registrazione sono su un tavolo ma voi potreste farlo in sospensione quindi facendolo penzolare dal tavolo non avete necessità di stare nella stessa posizione in cui sto io io sto così solo per farvi vedere il funzionamento vedete prende tutti i dentini avanti a uscire il nostro tricottino in realtà io poi per chiudere mi sono organizzata diversamente da quello che ho visto nei vari tutorial del tipo che taglio il filo in questo caso lo strappo perché ho dimenticato la taglia fili cosa faccio sposto il peso per far passare tutto il filo all'interno del nostro tricottino vado avanti a girare fino a quando non si stacca quando si sarà staccato infilerò tutti gli occhielli nel mio uncinetto in questo modo ecco qua prendo il mio filo lo carico e passo attraverso a tutti e quattro forse il primo lo stretto troppo vediamo se riesco ho tagliato il filo troppo ecco qua potete anche disfare qualche punto se vi accorgete che è troppo corto il filo comunque lo carichiamo e esco da tutti i miei dentini faccio da tutti i miei occhielli faccio la catenella di sicurezza nodino e la mia vedete il mio cordoncino è presto che fatto veloce rapido lunghissimo non devo diventare matta insomma a farlo manualmente con questo attrezzo oppure con l'uncinetto devo dire che mi sono rimasta stupita perché pensavo fosse una cosa più complicata e un po più lenta invece devo dire la verità mi è piaciuto tantissimo quindi vi consiglio questo attrezzino io l'ho acquistato su amazon dopo vi lascerò il link in descrizione mi sono trovata bene e quindi mi sento di consigliarvelo se però a voi piace farlo con quel tricottino manuale oppure addirittura come vi feci vedere l'anno scorso in un tutorial con l'uncinetto senza l'ausilio di nessun dispositivo meccanico diciamo potete tranquillamente andare avanti a fare i vostri cordoncini come vi trovate meglio io ovviamente vi consiglio quello che provo e quello che mi piace vi do un bacione grande vi saluto vi invito a venirmi a trovare nel prossimo tutorial vi invito a iscrivervi al canale creando con luci cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche a tutti i miei tutorial se volete venire a trovarmi sul gruppo facebook sempre creando su luci con luci se volete venire a trovarmi su instagram sempre creando con luci un bacione grande ciao al prossimo tutorial ciao alla prossimo tutorial ciao al prossimo tutorial Grazie.